Qual è la situazione per la piscina di Nesima? E' stato fatto uno sforzo perché tuttora ancora la vasca Tuffi non è aperta al pubblico, però si è pensato, io vengo da un incontro dove ci siamo visti con i due assessori allo sport e alla manutenzione, era anche presente la responsabile della federazione italiana nota regionale Sergio Parisi che ha promosso questo intervento nel quale si è pensato di aprire l'impianto sebbene la piscina Tuffi ancora non sia in grado di esprimere la propria efficienza, mancano ancora i filtri che purtroppo non sono arrivati e ci sono alcune condizioni di sicurezza che ancora non sono state superate, però è bene per dare un segnale alla città e ai tanti utilizzatori che si sappia che la piscina da oggi è ufficialmente aperta.